Ciao a tutti, sono Antonelli Giorgio. Lo scorso luglio mi sono laureato in filosofia, in magistrale, presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi su di Ui con Alessandro Bertinetto. In questa sede vorrei continuare le riflessioni che sono state fatte nei video in precedenza e in alcuni post condivisi sulla nottola. e affrontando un autore che secondo me può essere interessante, che è Karl Lovit. Karl Lovit è un filosofo che nasce nel 1897 e muore nel 1973. Allievo di Husserl e di Heidegger, ha scritto nel 1949 un testo molto interessante che vi mostro. Significato e fine della storia, i presupposti teologici della filosofia della storia. È un testo che non ha una tesi positiva, ma è un testo che ha una tesi radicale, che è la seguente, cioè che non si può fare filosofia della storia. Cioè che le interpretazioni che sono state date soprattutto dalla tradizione filosofica su un senso ultimo, un significato ultimo della storia, non sono sostenibili. E per farlo utilizza una strategia testuale interessante, cioè che utilizza un regresso. Cioè lui parte da un autore più recente, che è Burkhart, e inizia a discendere piano piano attraverso Hegel, poi andando ancora indietro Vico, poi Voltaire, fino ad arrivare a quella che secondo lui è il nocciolo centrale di queste, diciamo così, dell'interpretazione filosofica della storia, cioè un presupposto teologico di matrice biblica. Esistono numerose concezioni della storia, però diciamo che le concezioni soprattutto legate al tempo e alla storia possono essere riassunte in tre. Quella circolare, che è ad esempio dei Greci, del paganesimo, quella lineare, che appartiene al monoteismo soprattutto cristiano, e quella, diciamo così, progressiva, che è quella più diffusa nella società odierna, cioè l'idea che si va verso il meglio. Questa idea, che era molto più diffusa una volta, è stata messa in discussione sia da autori, tra cui Lovitt o Walter Benjamin, ma anche da contingenze storiche come la Seconda Guerra Mondiale. E Lovitt concorda con l'idea che non sia sostenibile un'idea progressiva di storia, ma, e qui leggo un passaggio tratto dalle conclusioni, che è il seguente, in cui, diciamo, che emerge il punto di vista di Lovitt sulla filosofia della storia e la storia. Il problema della storia non può essere risolto sul suo stesso piano. Gli avvenimenti storici, in quanto tali, non contengono il minimo riferimento a un senso ultimo e comprensivo. La storia non ha un risultato ultimo, non si è mai data, e non si darà mai una soluzione del suo problema a essa immanente, poiché l'esperienza storica umana è un'esperienza di continui fallimenti. Ecco, secondo Lovitt la storia non ha un risultato ultimo, ed è una posizione in contrasto netto con le precedenti filosofie della storia. Questa posizione, dal mio punto di vista, è interessante ed è un buon strumento critico, soprattutto in questo momento, in cui si tende a dare un significato a un evento biologico, che può essere il virus, di più ampia portata o di più ampia significazione, come se fosse parte di un piano più ampio. Ecco, da questo punto di vista Lovitt, secondo me, ci insegna la sobrietà e soprattutto l'idea di mostrare che anche dietro a teorie e postulati e ipotesi sulla storia o su eventi, ci sia soprattutto una visione umana, troppo umana, come nerebbe Nietzsche. E questo ci aiuta, secondo me, a mettere da un lato in discussione l'idea di una storia progressiva, ma dall'altro di metterci in una condizione in cui noi non sappiamo veramente quale sia il fine ultimo, se ci sia un fine ultimo nella storia. Possiamo indagare, analizzare, e questo è molto importante, però soprattutto il testo di Lovitt ci insegna ad avere una visione critica sulle interpretazioni finalistiche, teleologiche che diamo alla storia e al mondo. Ecco, questo è un testo che secondo me può aiutare molto in questo periodo da questo punto di vista. Abbiamo inoltre, o così, diciamo, scelto una citazione che abbiamo condiviso recentemente a proposito di questo testo sempre, che è quella di Agostino, che vi leggo e su cui, diciamo così, chiuderò la riflessione di questo video. Il mondo è come un torchio che spreme. Se tu sei morchia, vieni gettato via. Se sei olio, vieni raccolto. Ma essere spremuti è inevitabile. Soltanto osserva la morchia, osserva l'olio. La spremitura ha luogo nel mondo attraverso la fame, la guerra, l'indigenza, la carestia, il bisogno, la morte, la rapina, la cupidigia. Queste sono le miserie dei poveri e le calamità degli stati. Noi le sperimentiamo. Vi sono uomini oppressi da queste calamità che da queste calamità si lamentano e dicono come sono cattivi i tempi cristiani. Questa è la morchia che defluisce dal torchio nei canali di scolo. Il suo colore è nero perché essi bestemmiano. Non risplende. L'olio ha splendore poiché qui è un altro genere di uomo che subisce la stessa pressione e torchiatura che lo depure. Non è infatti una torchiatura a raffinarlo così? Ecco, questa è una citazione tratta dai sermoni di Agostino che Lovit mette come esergo al testo. Quindi prima abbiamo, diciamo così, visto le conclusioni mentre invece questo è l'esergo. Ecco, ma perché Lovit ha usato un esergo di questo tipo e perché Agostino? Dal mio punto di vista lo ha usato perché da un lato io vedo un intento critico-polemico, cioè mostrare come Agostino in parte vede la storia e dall'altro forse porre una riflessione soprattutto sul lato umano e la vicenda umana della storia e da questo punto di vista questa citazione si può legare alla prefazione di questa edizione di Pietro Rossi in cui a un certo punto verso la fine mentre spiega un po' diciamo così cosa contiene il testo di Lovit conclude dicendo che soprattutto Lovit ha fornito una diciamo così considerazione del progresso del processo storico e soprattutto del significato umano della storia ecco dal mio punto di vista concordo con l'idea che non si possa più vedere o sostenere l'idea di una storia progressiva ma che soprattutto possiamo grazie agli autori della filosofia della storia e grazie a Lovit stesso diciamo così avere uno sguardo critico noi stessi e magari rinunciare a dare una visione globale o un senso ultimo totalizzante soprattutto cioè l'idea che un individuo isolato o uno studioso isolato o una tradizione per quante bibliografia per quante fonti o conoscenze non possa dare la risposta definitiva a che cosa sia la storia perché in fondo la storia secondo me è una cosa che si fa e vederne il risultato ultimo come è possibile se la storia continua ad andare avanti in questo senso il capitolo forse più generoso assieme a quello di Burkhart è stato quello su Vico Vico è un autore che ho studiato nella tesi triennale con il professor Roberto Gilodi mentre la magistrale l'ho fatta su Diui però da quest'autore Vico Löwitt trae la teoria dei corsi e ricorsi della storia anche Vico aveva una visione più ampia in un certo senso legata alla provvidenza teologica però l'insegnamento di Vico è che la storia non ha un cioè la storia potrebbe ritornare indietro la storia potrebbe andare in modo diverso potrebbero esserci degli imprevisti quindi dal mio punto di vista il significato e il testo diciamo così cosa ha trasmesso a me questo testo e soprattutto l'istanza critica del nostro rapporto sulla storia e quindi l'idea che un significato ultimo della storia non sia possibile o quantomeno cautelarci nel momento in cui lo esprimiamo grazie a tutti per l'ascolto e speriamo ci sia un dibattito intorno a questi video e buona giornata o buona serata grazie 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 a tutti grazie a tutti